La mia famiglia è la mia famiglia Questa non dorme e può prendere un pezzo di cibo. Avete fatto... Sì, sì. Si convengono sempre? Sì, convengono, perché le abbiamo visti prima e dopo sì. Quanto si risposta in mediamente? Noi abbiamo comprato al 50. Avete aspettato apposta per fare degli acquisti? Certamente sì. Avete visto prima? Sì. Perché i prezzi visti prima e dopo in effetti il saldo era vero. Siamo tornati ieri e ci siamo ritornati oggi con i saldi. Siete tornate apposta per i saldi? Lo fate sempre? Sì, di solito lo facciamo. Quindi si rimanda diciamo l'acquisto? Sì, quando un capo è importante vale la pena. Siete soddisfatte? Sì, noi siamo abbastanza. Allora, ho comprato pantaloni, camicie, un paio di scarpe, un paio di stivali e ancora devo girare, quindi ancora altre due tre cose le prenderò. Quanto hai risparmiato mediamente? Eh, diciamo, i sconti sono intorno al 30-40% per ora. Convengono quindi? Sì, convengono, convengono assolutamente. Tu hai aspettato apposta? Certo, ho aspettato oggi il primo giorno dei saldi per andare a comprare le cose che mi servivano.